Il giudice sportivo ha squalificato 12 giocatori dopo la penultima giornata di campionato andata in scena ieri sera. Sono Beresuschi della Sampdoria, Lianco e Meite del Torino, Mancini della Roma, Obiang dal Sassuolo, Papetti del Brescia, Paz del Lecce, Pjanic della Juve, Rebic del Milan, Rog del Cagliari e Gezzal della Fiorentina, che si aggiungono a Juraj Kuczka del Parma, fermato dopo la quinta ammunizione ricevuta contro l'Atalanta martedì sera. Per quanto riguarda gli allenatori, Maurizio Sarri non sarà sulla panchina della Juventus contro la Roma sabato sera, essendo stato ammunito contro il Cagliari. Sorride Davide Nicola, per il tecnico del Genoa, mandato fuori dall'arbitro contro il Sassuolo per errore, solo un'ammenda da 2.000 euro. L'allenatore potrà dunque seguire regolarmente la sfida decisiva contro il Verona di domenica. Paolo D'Alpino, presidente della Lega di Serie A, ha parlato del futuro del calcio italiano al termine dell'Assemblea di Lega svolta in un hotel a Milano. Pensando ai prossimi mesi siamo preoccupati per l'incertezza e ci sono molte cose da affrontare, a partire dall'attuale protocollo sanitario, visto che se rimanesse tale è molto difficile affrontare un intero campionato con un tampone ogni quattro giorni. Bisogna definire nuove modalità applicabili e percorribili. A proposito invece della data d'inizio del prossimo campionato, D'Alpino ha dichiarato, lunedì avremo una riunione sui calendari per stabilire esattamente l'inizio, lunedì avremo una riunione sui calendari per stabilire esattamente la data d'inizio, al momento è il 12 settembre, ma stiamo cercando di riuscire a guadagnare un po' più di tempo per far riposare maggiormente le squadre. L'ipotesi che Slitti esiste, poi vedremo di quanto. Gli stadi italiani vanno riaperti, pur con tutte le possibili cautele e limitazioni. Serve attenzione, determinazione e conoscenza per non fare errori e cogliere opportunità. Abbiamo presentato uno studio serio per indicare una via per la riapertura degli stadi, ha aggiunto, ma ad oggi non siamo ancora riusciti ad avere pubblico nello stadio. Per primo dico che la sicurezza viene prima di tutto, ma trovo difficoltà nel vedere discoteche aperte e pensare che sabato sera a Torino, per la premiazione della squadra che ha vinto lo Scudetto, non ci sarà nemmeno un tifoso. Alcune riflessioni vanno fatte. Nessuno ha chiesto stadi pieni, ma distanze mantenute e ingressi diluiti. Il nostro paese ha agito molto bene nella crisi, non ho visto ritardi, vedo molta cautela, ma contemporaneamente, in alcuni casi, quando definisci progetti con livelli di garanzia e sicurezza molto alti, crediamo sia opportuno valutarli. Credo che sia uno stimolo a venire incontro a un sistema che ha bisogno di questo e non una critica. ACF Fiorentina comunica che mister Giuseppe Iacchini rimarrà alla guida tecnica della prima squadra gigliata anche per la stagione 2020-2021. Così recita il comunicato pubblicato sul sito ufficiale della società Viola, con cui Club annuncia la permanenza del tecnico anche per la prossima stagione. Il presidente Rocco Commisso è felice della scelta. Beppe Iacchini è arrivato in un momento molto complicato per la squadra ed è riuscito, nonostante tutte le difficoltà di un'annata unica e incredibile sotto tutti i punti di vista, a dare compattezza all'ambiente e a risalire la classifica. Proprio per questo sono convinto che il mister si meriti l'opportunità della riconferma e di poter lavorare con la squadra sin dall'inizio della stagione, ha dichiarato Commisso. Si attendeva soltanto l'ufficialità. Ora è arrivata. Andrea Pirlo è il nuovo allenatore della Juventus Under-23. Dunque, da maestro a mister, Pirlo ha salutato la Juventus dopo quattro stagioni nell'estate del 2015 con un palmarès bianconero incredibile, quattro scudetti, una Coppa Italia e due supercoppe italiane. Si legge sul comunicato ufficiale della società, una storia accostellata di tante, tantissime gemme, gol decisivi, assist dipinti su tela, visione di gioco comune a nessuno e un'esperienza, quella stessa che ha portato Andrea sul tetto del mondo con la Nazionale Azzurra nel 2006, che ora metterà a disposizione dei ragazzi dell'Under-23, un progetto recente e in crescita continua e che quest'anno ha portato alla sua seconda stagione il suo primo e storico frutto, la Coppa Italia di categoria. Una sfida è alle porte per un ritorno che non può che far piacere. Welcome back, Coach Pirlo!